A volte basta davvero poco per dare una svolta alla propria carriera. Chiedere per conferma a Rinaldo Nocentini, che tra vittorie ed esploi inaspettati, infortuni e batoste, ha spesso dovuto fare conti con cadute e scherzi del destino. Dal rischio più che concreto di dover dire addio alle corse alla presentazione tra pochi giorni, davanti a 50.000 persone sono passate tante emozioni forti, vissute nel giro di pochi giorni. Oggi Nocentini guarda con il sorriso al futuro che parla portoghese e porta i colori dello Sporting Lisbona. La polisportiva Lusitana, dopo i successi ottenuti in ambito calcistico, torna nel mondo del ciclismo grazie alla fusione di tre gruppi societari. Per il 38enne Aretino, dopo gli otto anni in terra francese con la Gilles de Zerla Mondiale, si profila all'orizzonte una nuova avventura con un ruolo da protagonista. Il Nocenti, infatti, sarà capitano dei Biancoverdi, che prenderanno parte alle maggiori corse in terra portoghese, con l'obiettivo dichiarato di conquistare la Volta au Portugal. La firma è arrivata dopo settimane intense. Sfumato il rinnovo con il team francese, per Rinaldo Nocentini sembrava ormai impossibile trovare sistemazione, nonostante dichiarazioni e abboccamenti. Ed invece è arrivare poco prima di Natale la chiamata giusta. Il 2 gennaio Rinaldo sarà in Portogallo. Allo stadio José Alvalade di Lisbona, alle 21.45 euro italiana, i padroni di casa dello Sporting affronteranno il porto nel big match della Primera Liga, che vedrà la seconda della classe ricevere la capolista. Una partita da tutto esaurito, durante la quale la società lusitana presenterà Nocentini. Niente male per un ciclista che sembrava destinato a dover chiudere prima del tempo la propria carriera.